Buongiorno e ben ritrovati con il nuovo appuntamento della rubrica Buon Appetit. Oggi, come primo del mese di novembre, vi propongo il risotto alla milanese, fatto con i pistilli dello zafferano. Quindi seguiremo passo passo tutti i procedimenti per ottenere un buon risotto. Grazie e buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.